Ciao a tutti ragazzi, sono David2002. Oggi vi insegnerò un pochino come utilizzare Windows Movie Maker, però una vecchissima versione. Per editare video. Allora, quale cazzo era il video? Allora, vediamo. Questo non è, questo non è. Aspetta. Ok, questo. Sembra di sì. Allora, a me va lentissimo perché devo fare ancora gli aggiornamenti ed è il terzo video che faccio in tutta la giornata, raga. Questo basterà secondo me per un sacco di giorni perché un video dura 18 minuti. Quello ho fatto stamattina è bello, dai. Per gli iscritti che inizio anche ad apprezzare perché si stanno iscrivendo ancora di più. Stamattina erano 102, ora 130, mi sa. Se non più, raga, a me, agli altri non lo so. Ma sto per piangere dalle emozioni, raga. Perché il mio sogno era proprio fare youtuber, non youtuber, come si dice. Perché mi gustavo sempre. Come fanno i youtuber? Pensavo nella mia testa a bambino da 11 anni. Come fanno i youtuber a fare tutti questi video? Devono essere veramente famosi e gustoso. Allora, mi è venuta voglia di provare a fare un piccolo canale che ora è diventato un grande canale. Secondo me può diventare veramente tanto famoso se ci mettiamo l'impegno. E' brutto però, di speed sniper ed headlessboot 39. Perché non fanno mai video? Speed sniper, l'ho messo il link in descrizione. Sì, ma ricordo perché sul canale ho scritto un messaggio, abbio aggiunto due membri, headlessboot 39, speed sniper. Quindi, non penso che non lo conoscevate. Due. Stanno il 99%. Quindi, possiamo iniziare. Bene, niente parole. Non so se questa sorta di programma li metterà bene i video. Perché, guardate, io ora non mi va di metterle manualmente. Quindi, prendo tutto e aggiungo video. Vi video. Io, io, io. Scusate, mi sta dando gusto. Poi, vado, il cazzo è che urla così? Oh, ma c'è, mamma. Prima parolaccia. La devo scrivere sul video che ho appena fatto. No, scherzo. Allora, a parte di scherzi, questo video è il secondo, questo è il terzo che sto facendo ora. Allora, crazy channelita Intro Allora, se lo volete sapere All'inizio su questo programmino Ma mi sa proprio su tutti i programmini Andrà a rilento la intro Ecco, ce l'ho messa, non so come Andrà a rilento Non so perché Perché il video pesa tanto Quindi aggiungendo intro Mi sa Scientificamente, non lo so Cazzi è Aspetta Fatemi Eh merda, ho sbagliato Sentite bene Eh, su Non va bene Dobbiamo progredire Al problema Quella là Ho detto che Ecco bravo Non sono tanto pro, eh Anzi, non sono per niente pro Quindi Non vi incazzate Allora Sinceramente non mi va di mettere un audio Mio che dico Bella a tutti ragazzi Oggi siamo qui sul Crazy channelita E stiamo facendo un video su Come fare l'amore No, scherzo Su Non mi ricordo più Bene Eh, non mi va di mettere questo E anche di dire il mio no Perché ormai mi conoscete Io il video scrivo sempre Nel 2002 Metti tag I tag Merda Il video precedente raga Non ho messo i tag Sono fottuto Sono fottuto Come la merda sciolta Bene Bene In questo lo metterò E anche in quest'altro Che sto facendo ora Bene Praticamente Il mio video qui è finito A me non mi va di aspettare Quindi Salvi il progetto Perché Per carità di dio Se mi si blocca il programma Sono fottuto Video 130 iscritti No No, 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 no Fermo, fermo, fermo Video Strambo Sì raga Perché questo video è strambo Ma ho mandato prima Quest'altro video Che ho appena fatto Di strambo Eh, attività Per esportare il progetto Qui ragazzi Dovrete Eh, salvare sul computer Ma Senta Prima vi faccio vedere Gli effetti Mi sto ammazzando dal zolo No Non so se farvi aspettare In questo fottutissimo video Perché il gioco non sa via Quindi Credo di dover Velocizzare Intanto Vi faccio vedere Anche un po' Gli effetti video Aspetta Mettiamo proprio Qui Visualizio effetti video E ci usciranno Una marea di effetti Sempre Se la voglio I graniti Allora Acquerello Vediamo un pochino Com'è Allora Riproduzione Si vedrà Così Eh Aspettate Devo mettere un attimo In pausa In pausa Pausa